Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Bisogna ancora attendere il confronto con gli azionisti che è tuttora in corso e che potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo occupazionale e la riconversione ambientale. Ma la strada per l'amministrazione straordinaria dell'ex Silva di Taranto è stata aperta. Così il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo dopo un intervento in Commissione Industria al Senato dove sono in esame i decreti sull'ex Silva. Ove non ci fossero nel frattempo altre soluzioni altrettanto significative, ha spiegato il ministro, per le garanzie sul rilancio industriale occupazionale dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese, procederemo nella direzione del commissariamento. Tutti gli strumenti a riguardo sono stati attivati. Mi ha stupito, ha poi aggiunto il ministro, apprendere che l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, non sia venuto nemmeno in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere. Queste informazioni non sono state date nemmeno al socio pubblico e ai commissari titolari degli impianti. Quello che è utile e necessario è che ci sia invece la piena partecipazione di tutti. Mi auguro che tutto il sistema paese ha concluso Urso così come sta avvenendo, si muova insieme per salvaguardare questo asset strategico così fondamentale. A stretto giro arriva la smentita dell'azienda in merito alle audizioni svolte, replica Acciaieri d'Italia, comunichiamo di non essere stati convocati dalla Commissione. Confermiamo tuttavia la nostra partecipazione in caso la Commissione ritenga opportuna l'audizione della società. Acciaieri d'Italia ha poi anche voluto smentire la notizia circolata in questi giorni sulla stampa nazionale e locale in merito al fatto che l'azienda non avrebbe fornito a Sace le informazioni necessarie per poter dar seguito a quanto previsto dai provvedimenti adottati in questi giorni dal Governo a tutela dei crediti dell'indotto. L'azienda ha scritto Acciaieri d'Italia, precisa che tali affermazioni sono prive di ogni fondamento. Da Sace non abbiamo avuto alcuna richiesta in merito. E sulle recenti dichiarazioni del Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso a proposito dell'assenza dell'amministratore delegato di Acciaieri d'Italia Lucia Morselli dalle audizioni che si sono svolte in Senato sull'Exilva è intervenuto anche il segretario della Wilm Taranto, Davide Sperti. Il Ministro Urso quest'oggi si è detto sorpreso dell'assenza dell'amministratore delegato di Acciaieri d'Italia alle audizioni in Senato. Noi non siamo per niente sorpresi, per questo è un'abitudine ormai consolidata della gestione del socio privato che continua con i suoi blef, così come non eravamo sorpresi quando si è avvicinata alle portanerie a parlare con gli autotrasportatori, come se lei, parlo della dottoressa Morselli, forse priva di responsabilità sulla devastazione in atto. E come il 6 maggio 2022 osò sfidare i lavoratori in sciopero davanti alle portanerie dello stabilimento e fu allontanata dagli stessi, in quanto assoluta prima responsabile della desertificazione sotto ogni profilo che sta vivendo la nostra comunità. Si svolta questa mattina davanti alla portineria C dello stabilimento siderurgico dell'Exilva di Taranto l'Assemblea Generale delle aziende dell'indotto e dei lavoratori. Io non entro nel merito di quello che ha detto la dottoressa. Secondo me dopo 5 anni è voluta venire... Quando uno chiude un percorso nella vita fa una passeggiata all'interno dello stabilimento, all'interno della sua casa e pensa a tutto quello che ha fatto e quello che ha prodotto e quello che non ha prodotto. Quindi secondo me è voluto essere un saluto anche se non lo ha dichiarato. Beh, forse sapeva cose che noi non sapevamo. Il governo, certamente non il governo, diciamo la legge sulle aziende parla chiaro. Chi paga è l'amministratore delegato. Quindi chiaramente io non entro nel merito di chi doveva dare e come gli doveva dare. La Morselli doveva per noi pagare le fatture, non aveva i fondi. Questo è un problema che è un tavolo che hanno aperto e che credo che oggi sia chiuso con le dichiarazioni di Orso. Orso ha fatto delle dichiarazioni importanti ma non è la prima volta che parliamo con il Ministro e parliamo con il Mimit. Devo dire ringrazio loro perché hanno sopportato me, hanno sopportato il mio staff e anche per gli emendamenti e per l'aiuto che ci hanno dato. Però questo non significa che abbiamo risolto tutto. Noi non abbiamo ancora compreso bene esattamente come questa nuova situazione andrà a pagare i crediti pregressi. Quindi io non voglio creare positività che non è corretta. Noi ad oggi non sappiamo ancora come le banche devono pagare i crediti. Un paese, due cure. Il titolo che Svimez ha assegnato all'ultimo rapporto sul profondo divario esistente tra nord e sud nel sistema sanitario italiano rende chiaramente l'idea della situazione attuale. Dati pesanti come macigni, quelli che emergono, al sud si investe poco e male nella sanità con risultato che l'aspettativa di vita è più bassa di un anno e mezzo rispetto al nord. La mortalità per tumori inoltre è più elevata soprattutto per le donne e continuano le dispendiose fughe verso le strutture sanitarie centrosettentrionali nella speranza di cure migliori. Le peggiori condizioni di salute, infatti, secondo gli indicatori del benessere equo e sostenibile per la salute, si trovano nella parte meridionale del nostro paese. Colpa di un bilancio nazionale sanitario che non copre integralmente il costo dei lea, ovvero di quelle prestazioni e servizi che dovrebbero essere offerti in quantità e qualità uniformi in tutto il territorio nazionale, ma anche di una distribuzione regionale delle risorse, che non tiene conto del divario socio-economico tra nord e sud. La spesa sanitaria pubblica per cittadino al sud è più bassa a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, infatti in Puglia si registra una spesa di 1.978 euro. Le fughe più numerose dei cittadini meridionali verso le strutture sanitarie d'eccellenza del nord e del centro si verificano poi in concomitanza con il presentarsi di gravi patologie come quelle oncologiche. La Puglia, con 2.249 pazienti oncologici in viaggio verso la sanità settentrionale e 869 attratti verso le proprie strutture, soprattutto provenienti dalla Basilicata, presenta un saldo negativo di 1.380 pazienti, costretti a sobbarcarsi i costi aggiuntivi dei viaggi e dell'alloggio in strutture lontane da casa. Una situazione al limite, quindi quella della sanità italiana profondamente divisa su due fronti in cui l'autonomia differenziata rischia di ampliare le disuguaglianze nelle condizioni di accesso al diritto alla salute. Sarà scarcerato domenica prossima Michele Missieri, 69 anni, in carcere dal 2017 per i reati di soppressione di cadavere e diffamazione nel delitto della 15enne Sara Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto del 2010. A confermare la notizia è lo stesso sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che ha dichiarato che nelle prossime ore sarà firmata l'ordinanza della polizia locale di chiusura al traffico di Via Deledda, dove è ubicata la villa di proprietà dell'uomo in cui tornerà a risiedere. Auspichiamo che non ci sia più lo stesso circo mediatico dell'epoca, ha dichiarato Iazzi, credo di no, ma l'augurio è questo, anche per rispetto della memoria di Sara e della sua famiglia. Vogliamo che Avetrana sia ricordata peraltro, non per questo triste e doloroso evento. Continua incessantemente il lavoro del settore di base della Real Virtus Grottaglia e sui campi del centro sportivo eredità di Villa Castelli. Il responsabile Ciro Masella fa un bilancio della prima metà della stagione sportiva e annuncia i prossimi appuntamenti. Sì, sì, saremo impegnati settimana prossima, il fine settimana di carnevale con due categorie, un torneo Giulianova, con una rappresentativa 2013 e una 2015. E niente, quindi diamo inizio, siamo entrati nella fase cruciale della stagione, quindi diciamo gli impegni aumentano e noi ci facciamo trovare pronti per fare esperienze ai ragazzi e farle confrontare con altre realtà ovviamente. Sì, assolutamente, poi molto probabilmente andremo a coprire anche il periodo pasquale con altre categorie dove stiamo sviluppando dei discorsi anche per quelle categorie, quindi siamo in fase di lavorazione, diciamo. Per quanto riguarda le categorie agonistiche, sì, è iniziata la seconda fase, sia gli evi che i giovanissimi sono partiti abbastanza bene, certo il livello si è alzato, di conseguenza comunque appunto le partite sono un attimino più complesse, però è arrivata la prima vittoria per l'Under 15 domenica, un pareggio per l'Under 17 dopo due sconfitte nella seconda giornata, però al di là di questo quello che interessa a tutti, alla società e alla crescita di ogni singolo individuo e poi anche del collettivo, chiaramente poi il risultato sportivo sicuramente all'agonistica è un fattore importante ma è irrilevante rispetto alla crescita del movimento e dei ragazzi soprattutto. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.